Mi è venuto spontaneo da mamma e da consigliere comunale ieri protocollare la richiesta all'amministrazione comunale di intervenire sulle rette e sui servizi accessori dei servizi educativi del comune di Pesaro. In qualche maniera questo mese di marzo è stato uno stravolgimento per le famiglie che dall'oggi al domani si sono trovati con i servizi educativi chiusi. Come centrodestra con i miei colleghi ieri abbiamo protocollato questa richiesta all'amministrazione di sospendere il pagamento delle rette, delle materne e dei nidi e di intervenire qualora questa situazione si dovesse protrarre, speriamo di no e ce lo auguriamo tutti, però qualora dovesse succedere non solo sospenderla ma eventualmente prevedere una riduzione percentuale qualora nell'arco di pochi giorni si prevedesse un ritorno in presenza a scuola oppure la cancellazione totale di queste rette per il mese di marzo e per tutto il tempo in cui i servizi rimarranno chiusi. È un piccolo gesto, è un piccolo segno che però come amministrazione possiamo fare. Abbiamo chiesto anche all'amministrazione di intervenire nei confronti delle scuole paritarie e private che comunque svolgono un grande servizio alla città e aiutano e sostengono tante famiglie. Anche in quel caso se le strutture dovessero decidere di ridurre le rette il comune potrebbe andare in loro aiuto. Come presidente della Commissione Bilancio in quest'anno ho visto passare sulla scrivania virtuale della Commissione veramente tanti fondi che sono giunti dall'amministrazione regionale e dall'amministrazione statale proprio a sostegno dell'emergenza Covid. Io credo che questa proposta di buonsenso vada sostenuta e che l'amministrazione e la giunta senza altro saranno concordi nel garantire questa riduzione delle rette.